Italia 1 Dove stanno andando? Non lo so Questa cometa non è un singolo corpo celeste Ci hanno selezionati per andare in un rifugio Siamo stati selezionati! È abbastanza grande da poter causare un'estinzione di massa Dobbiamo andare Cado ovunque Gerard Butler Tenetevi forte! Greenland Lunedì alle 21.20 Su Italia 1 I told you no cell phones I know Then why'd you make me hurt you? You know I don't want to do that I'm sorry I'm sorry I just wanted to know if my dad's okay My dad's dead and I didn't call anyone That's right That's right That's right Look you knew it